Buonasera e ben ritrovati a tutti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con il caso Berlusconi che giunge al suo epilogo nella giornata più lunga, la giornata odierna. Urla, striscioni esposti, spintoni, proteste e polemiche. Il popolo di Silvio Berlusconi si è radunato fuori da Palazzo Madama, mentre dentro all'aula c'è scontro tra Bondi e Formigoni, mentre la Mussolini se la prende con Alfano. Vediamo il servizio. Sì alla decadenza, Silvio Berlusconi non è più senatore. Il Senato si è espresso in una lunga e convulsa giornata caratterizzata da tensioni fuori del palazzo e accesi scontri verbali all'interno. In nero, in segno di lutto, le donne di Forza Italia. In prima linea Alessandra Mussolini, che ha accusato Angelino Alfano di essere un piragna e il ministro Lupi di avere una personalità conseguente al cognome. Tra i più attivi anche Sandro Bondi, che prima attacca i senatori a vita, sempre assenti, ha detto, ma oggi curiosamente presenti, è l'aula nel suo complesso, accusata di una decisione precostituita e impermeabile a qualsiasi genere di argomentazione. Coloro che sono stati nominati da poco dal capo dello Stato, senatori a vita, i quali non si distinguono, mi pare, per una presenza fattiva ai lavori del nostro Senato, siano oggi presenti per votare su un fatto capitale come quello della decadenza di un senatore e del presidente del centrodestra italiano. Intanto, fuori, davanti a Palazzo Grazioli e per le vie limitrofe, il popolo di Silvio Berlusconi si è raccolto intorno al suo leader, il quale ha arringato la platea confermando l'intenzione di continuare a fare politica e a dar battaglia fuori dalle istituzioni. Anche Osvaldo Napoli e Nitto Palma parlano di un giorno brutto per la democrazia. E' una giornata brutta, brutta giornata, brutta. Non sapremo reagire, Berlusconi ha delle capacità che, passato il colpo negativo, saprà reagire. E' una giornata triste prima di tutto per tutti quelli che, come me, come questa gente, come quelli che arriveranno, sono legati al presidente Berlusconi. Chi per ragioni personali, affettive, chi come tutta questa gente, perché ha rappresentato per loro e tuttora rappresenta una speranza. Sempre politica, in un clima convulso, tremendamenti e polemiche, passa al Senato il DDL sulla legge di stabilità, che va ora al vaglio della Camera. Superato quindi dal governo delle cosiddette strette intese, il primo scoglio sulla nuova maggioranza, quindi sul nuovo assetto. Vediamo. Dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri, Palazzo Madama ha approvato prima la nota di variazione del bilancio successivo all'approvazione della DDL di stabilità con 205 voti favorevoli e 69 contrari e a seguire la DDL di bilancio con 162 sì e 115 no. Primo test riuscito della nuova maggioranza dalle intese meno larghe. Via libera dunque al dispositivo della manovra che andrà ora alla Camera per la definitiva approvazione. Numerose e talvolta controverse le misure presenti nel testo approvato. Intanto vi è il reddito minimo garantito, finanziato con la prelievo sulle pensioni d'oro, previsti inoltre 68 milioni di euro per le calamità naturali che arriveranno dal capitolo legato al finanziamento dei partiti. spiccano anche la cancellazione degli interessi legati alle vecchie cartelli di Equitalia e i 200 milioni di euro messi sul tavolo per rendere deducibile ai fini Ires l'IMU sui capannoni industriali. Naturalmente è tutto da prendere con il beneficio del dubbio poiché nel passaggio alla Camera molti aspetti contenuti nel maxi emendamento e nella legge di stabilità nel suo insieme potranno essere ulteriormente modificati. Per il momento si registra la riforma della tassazione sugli immobili con la nascita della IUC, Imposta Unica Comunale, e un primo taglio del cuneo fiscale. Sparisce del tutto la sanatoria sulle spiagge e la revisione sulle relative concessioni, oltre alla riduzione sulla prelievo fiscale delle sigarette elettroniche che resta al 58,5%. Esce quasi completamente svuotata la norma sull'aumento del fondo di garanzia destinato all'Istituto di Credito Sportivo, con conseguente esclusione di nuovi impianti sportivi e di nuove costruzioni non contigue agli impianti stessi. Resta articolata la tassazione sulle abitazioni. La prima casa non pagherà l'IMU ma parte della IUC, quella legata ai servizi, quindi la Tasi, con un'aliquota base dell'1 per 1000 e un tetto solo per il 2014 del 2,5 per 1000. I comuni, forse per limitarne l'azione sulla leva fiscale, hanno ricevuto in dotazione 500 milioni per eventuali detrazioni. Apriamo ora la pagina dedicata alla cronaca, offriva lavoro via internet ma in realtà stuprava e derubava le ignare vittime. Un 61enne romano è stato arrestato dai carabinieri. Vediamo il servizio. Violenze e rapine mascherate da offerte di lavoro. È successo a Roma dove un uomo, Claudio Franciosi, già condannato per analoghi reati, offriva lavoro su internet alle donne e dopo un colloquio le drogava, le violentava e le derubava. Il 61enne romano è stato arrestato oggi dai carabinieri di Roma Prati. Sono dieci finora i casi accertati delle aggressioni, ma il numero potrebbe essere destinato ad aumentare. Le ragazze, infatti, in cerca di un'occupazione, venivano da tutta Italia, in particolare dal nord, ed erano attirate dall'aggressore tramite annunci su internet, dove veniva offerta la possibilità di lavorare come hostess, con guadagni che andavano dai 1500 ai 4000 euro. Una volta giunte a Roma, le vittime incontravano il falso agente in eleganti hotel e, dopo un breve colloquio, venivano invitati a bere spumante, dove l'uomo aveva aggiunto del benzodiazepine. Le ragazze, persi i sensi, venivano abusate e al loro risveglio si ritrovavano senza soldi, carte di credito, orologi ed effetti personali. Franciosi, già ricidivo, era già stato arrestato 11 anni fa per un altro reato simile. L'uomo si spacciava per regista a caccia di nuove promesse del mondo dello spettacolo, per ripetere lo stesso copione, drogare, violentare e derubare altre ragazze. E sempre come allora, anche oggi, l'uomo è stato incastrato grazie a una donna carabiniere, che si è finta interessata all'annuncio, lo ha incontrato ed arrestato. L'Italia è nella cosiddetta morsa del gelo. Neve, ghiaccio e vento hanno provocato grandi disagi in gran parte della penisola, soprattutto in tutta la zona adriatica. Vediamo. Tanta neve e temperature polari in gran parte della penisola. In Toscana, sulle regioni adriatiche e giù fino a Puglia e Calabria, neve, vento e pioggia hanno provocato disagi alla viabilità. La perturbazione attesa per oggi, che avrebbe portato venti freddi e calo termico, non si è fatta dunque attendere, portando con sé anche la neve, principale ostacolo per chi ha dovuto muoversi. Scuole chiuse in Molise e nel Potentino, dove il pericolo è rappresentato dal ghiaccio. Questa mattina disagia la circolazione ferroviaria in Abruzzo, dove 50 centimetri di neve hanno reso impraticabili i binari. Temperature vicino alla zero in Puglia, soprattutto nel Foggiano e nel Barese. In alcuni comuni del Gargano e del Sub Appennino restano depositati alcuni centimetri di neve. Colonina di Mercurio sotto zero anche in Sardegna. Neve anche per i prossimi giorni sulle adriatiche, mentre domenica sono attesi nubi fragili al sud. Nuovo capitolo per l'omicidio di Meredith Kercher. Chiesti 26 anni per Raffaele Sollecito e addirittura 30 per Amanda Knox. La prima udienza è attesa per il 16 di dicembre. Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono gli assassini di Meredith Kercher. Vanno condannati alla pena di 26 anni per omicidio volontario, più 4 anni ad Amanda Knox per la calugna contro Lumumba. È questo l'esito della requisitoria del Pubblico Ministero Alessandro Crini al processo di appello bis di Firenze per l'omicidio di Meredith Kercher. La ragazza inglese è uccisa il 1 novembre 2007 a Perugia. Va ricordato che in primo grado Sollecito e Knox furono condannati rispettivamente a 25 e 26 anni, poi assolti in appello con una sentenza che è stata cancellata dalla Cassazione, che ha poi rinviato il processo a Firenze dove si sta svolgendo l'appello bis. Queste le parole di Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher. Penso che non sia una questione di soddisfazione. Sono soddisfatto in modo totale della sua requisitoria. La pena poi è una cosa che compete alla Corte e non alla parte civile. La requisitoria è stata assolutamente completa, precisa, dettagliata e ha fornito tantissimi elementi alla Corte Fiorentina per giudicare in piena e totale serenità. La prossima udienza è prevista per il 16 dicembre con l'arringa della parte civile che rappresenta la famiglia della vittima. Poi il calendario dell'udienza prevede le arringhe difensive, le repliche e la sentenza, probabilmente a metà gennaio. Ha parlato anche l'avvocato di Lumumba, divenuto parte civile nel processo e dispensa parole poco lusinghiere nei confronti di Amanda Knox. Reputo che la richiesta di 4 anni per Amanda sia assolutamente in linea con la gravità della condotta del comportamento di Amanda. In realtà vorrei precisare questo, che il delitto di calunnia è già giudicato. Ciò di cui oggi stiamo discutendo come parte civile Lumumba è la sussistenza o meno dell'aggravante. Per l'avvocato Pacelli, dunque, Amanda Knox va condannata per calunnia con l'aggravante del cercare l'impunità. Apriamo ora la nostra pagina dedicata agli esteri, naufragio nelle Bahamas di un'imbarcazione a vela piena di profughi haitiani, 30 addirittura le vittime. Nuova tragedia in mare, questa volta a largo delle Bahamas. Naufragio nella notte fra lunedì e martedì quando un'imbarcazione a vela di 12 metri si è rovesciata in acqua. La barca era carica più del dovuto di profughi haitiani. Secondo le prime fonti di informazione, ci sarebbero 30 vittime tra le persone che erano a bordo. Il resto dei profughi, si contano almeno 110 persone, sono stati salvati. Secondo quanto riferisce il New York Times, citando la guardia costiera USA, l'imbarcazione aveva a bordo non più di un centinaio di persone e probabilmente era salpata una decina di giorni fa. Non si conoscono ancora le cause del naufragio. Il maltempo sicuramente avrebbe inciso nella tragedia. Il vento soffiava a 26 nodi, scatenando la furia del mare. Le onde, infatti, erano alte un metro e mezzo. Tra i fattori aggravanti non è da sottovalutare sicuramente il fatto che nessuna delle persone a bordo era munita di giubbotto di salvataggio. Bene, con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi rimando alla prossima edizione del nostro telegiornale. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.